Preparate le bollicine! Queste girelle tramezzino renderanno speciale l'ora dell'aperitivo. Sono golosissime! E vedi che ti mangi! E prepararle è anche semplicissimo! Per la farcitura uniamo formaggio fresco spalmabile, sale, pepe, prezzemolo e scorza di limone e amalgamiamo. Assottigliamo la fetta di pane con il mattarello. E farciamola con la crema al formaggio. E poi con il salmone affumicato, lasciando un po' di spazio libero sui bordi, arrotoliamo il pane per formare un rotolino, cercando di stringere il più possibile senza rompere il pane. Richiudiamo nella pellicola. E le girelle al salmone sono pronte! Prepariamo quelle al tonno, sminuzziamo i pomodorini, uniamo sale, olio e un po' di basilico. Aggiungiamo il tonno ben sgranato e sgocciolato e qualche cappero. E amalgamiamo. E dopo aver assottigliato il pane, crema il formaggio e farcitura con il tonno. Distribuiamola e appiattiamola su tutta la superficie e arrotoliamo per formare le girelle. E in ultimo, quelle con funghi e prosciutto cotto. Tritiamo i funghetti e le uova sode. Assottigliamo il pane, farciamo con la crema al formaggio, poi funghetti, uova sode e le fette di prosciutto cotto. E anche qui, come le altre, arrotoliamo. Mettiamoli in frigo per almeno due ore. E per guarnire, spalmiamo su ogni rotolina un po' di crema al formaggio. E passiamo quelle al salmone nella granella di pistacchi. Tagliamoli a fette. Guarniamo quelle al tonno con le olive tritate. E tagliamoli a fette. E infine, quelle funghi le andiamo a guarnire con qualche funghetto sott'olio e una spolverata di paprika affumicata. Sono favolose!